Il gruppo Facebook Sedi Battipaglia è il Vero, amministrato da Vincenzo Cesaro ed Alfonso Mezzullo, ha indetto in collaborazione con Fabio Orfano, in qualità di direttore artistico, il primo concorso fotografico Città di Battipaglia. Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti ed amatoriali. Le fotografie presentate dovranno rispettare il tema Battipaglia e le relative sezioni, paesaggio, fotografia di strada ed architettura. Le foto, inoltre, dovranno ritrarre luoghi ricadenti esclusivamente nel territorio del comune di Battipaglia. Regolamento, date e premi offerti dagli sponsor verranno comunicati nei prossimi giorni.